Oggi abbiamo avuto un'ennesima audizione per il problema stamina, dico problema, è un'indagine conoscitiva ma oggettivamente a questo punto sono ancora più confusa perché ognuno ha detto un frammento di verità o di non verità e quindi l'indagine sta andando a rilento. Sono un po' stupita perché delle istituzioni hanno illuso dei malati, non dimentichiamo che c'è stato un decreto, una legge del Senato, la Regione ha in un certo senso individuato gli ospedali di Brescia che è una struttura di alta valenza, quindi queste persone sono andate in un ambito istituzionale, protetti e illusi da una legge e da una serie di interventi alti, non sono andati dai mali. Oggi diciamo che stamina non ha più valenza scientifica ma allora che cos'è? Un placebo, una non cura, una sperimentazione? Si aspettano queste risposte. Io sono addolorata per questi ammalati che sono in questo turbio e in questo caos creato da istituzioni alte. Va posto rimedio.